come prima lezione cominceremo oggi inizieremo dal ventre il ventre la zona dove si concentrano il virus più osceni i mali più orrendi immondi purulenti i nemici del nostro spirito il virus più oscuro La clitoride, l'utero, le ovaie, vere e proprie anticamere dell'inferno, l'inferno che è in noi. Vergine santo, proteggici.